Musica Semplicemente qualità, questo è lo slogan di Squisito 2011 che si ripropone all'insegna del gusto ma anche del recupero di un rapporto più sano e naturale con il cibo Nei paesi occidentali il rapporto col cibo è un po' snaturato si spreca molto, si mangia anche forse troppo non è più solamente soddisfazione di un bisogno primario che cosa si può fare? Credo che tutto quello che tu hai denunciato sia dovuto al fatto che si è usciti da un ordine per cui regna il disordine il disordine appunto è essere ipernutriti, sovrappeso quindi le patologie di questo secolo legate a una cattiva alimentazione ma soprattutto fuori da un ordine non si sa più quando i prodotti arrivano in una data stagione perché è l'ordine che ci porta quei prodotti in rapporto tra un uomo e una terra e quindi secondo me bisogna riappropriarsi di queste cose semplici andando a vedere quella campagna viva che in Italia è molto viva perché l'Italia è il paese che è lungo e stretto che ha conservato i saperi e quindi poi anche i sapori provenienti da tutto il mondo La manifestazione come squisito può servire anche a rieducare il consumatore? Noi non pretendiamo adesso di fare del moralismo o lezioni a nessuno semplicemente crediamo di educare anche attraverso il cibo i ragazzi che arrivano qui non hanno nessuna educazione alimentare sono abituati a mangiare male o a non mangiare affatto da noi ci sono molti disturbi alimentari tra l'altro però sicuramente qua si impara non solo ad apprezzare la bontà il fatto che si mangiano dei cibi naturali che poi si producono completamente qua ma credo che ci si abitua a finire per esempio quello che si ha nel piatto non sprecando niente e rispettando al 100% quello che è stato il lavoro che ha permesso a tutti di avere il piatto pieno Tu sei venuto qui diverse volte, che tipo di messaggio appunto può veicolare una manifestazione? Questa manifestazione secondo me ha dalla sua una cosa in più ha un valore aggiunto non su tutte le altre però ha una cosa in più che è quello che ha detto Andrea che loro producono è che qua c'è un prodotto naturale dove si arriva a percepire il contatto con la terra il contatto con l'animale, il contatto con il sole e con l'aria quindi squisito riesce a metterti secondo me un po' più a contatto con quello che è la radice la radice dell'alimentazione e del piacere comunque io mi occupo di piacere, mi occupo di lusso e questo non vuol dire che è una cosa per pochi è un livello mentale una volta il lusso era qualcosa che ti concedevi cioè che rinunciavi a qualcosa per raggiungere un lusso invece oggi siamo arrivati che il lusso è qualcosa che voglio ottenere senza rinunciare a qualcos'altro per fare la spesa in un certo modo devi togliere del tempo a qualcos'altro io penso che con tutto il tempo che passiamo davanti a questi schermi piatti lcd, plasma, cose del genere se togliessimo il 30% che trascorriamo di fronte a questi oggetti forse impareremo a fare la spesa e se impari a fare la spesa impari a capire quali sono le differenze tra un prodotto naturale e uno che non lo è grazie 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 grazie